ciao popolo io sono giulia e benvenute nel mio canale allora oggi vi volevo parlare di parlare più che parlare farvi vedere cosa faccio io al pomeriggio dopo le 2 20 dopo le 2 20 e quindi allora io sono davanti al mio computer vediamo se posso farlo vedere in qualche modo ok adesso magari metto la password ok mettiamo la password ok io di solito vado a guardare un po le mie foto di e poi un po di youtube quindi andiamo un po a vedere le mie foto vedete foto giulia da mettere sull'iphone 5s quindi vediamo 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 allora di solito io guardo un po queste quindi facciamoli passare un po avanti voglio vedere queste foto giulia ok a parte che sono tutte le mie ma va bene mi sento più come si dice più leggera con queste cappelle più corti se si carica magari facciamo presto a me no però io la volevo pure quindi qua se ti carichi maledetta non si può caricare la foto vediamo questa le foto non le posso fare vedere perché sono di mia cugina così non le voglio magari mettere su su il web va bene non si vogliono foto giulia da ok vediamo non c'è lo zoom wow si che c'è ok quindi facciamo così noi questa è la mia amica queste che ci vanno alla vabbè la tengo solo perché vabbè vabbè ambe chiudiamo decisamente le foto quindi ok andiamo qua chiudiamo le foto tutte 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 quindi aggiorniamo il pc così così aggiorniamo quindi poi andiamo su google chrome e bevo un po d'acqua mi è rimasto segno non si vuole aprire google oggi mamma mia se lo metto qua si vede mi si è aperto google quindi scriviamo v punto youtube punto com diritto non corretto ma perché ma perché ma perché forse ce l'abbiamo fatta ma forse no io sto parlando con te ma beh sono le due e mezza mamma perché c'è io odio sto computer lo odio ok ti sei aperto bravo youtube ok adesso magari vi faccio vedere un pochino vediamo oddio oddio non so se vedete qualcosa vabbè non so se vedete qualcosa appunto scusate che non so se vedete qualcosa ma comunque adesso guardo un po di video e niente questo video finisce qua come al solito e niente ci vedete un prossimo ciao 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 ciao